Hello my friends, today I'm with Matea, Matea is a fitness model. What happened? I'm going to translate. Che cosa è successo? Allora, ho dolori alla schiena. Sì, mettiamoci in piedi, facciamo vedere tu. Dolori alla schiena, qui. Sì. E mi prende poi tutta la parte. Questa parte. So, she feels pain on the left side and it's going along the downward on the, yes, on the leg. Mi prende la mano fino a qua. Ok, questo è il problema. Sì. Sì. E la spalla. Tendinopatia sulla spalla destra. Ok. Si aggiusta il termine. Sì, sì, è bene. Abbiamo la patologia del tendone, qui, sul muslo suvraspinosa e tendone, qui, sul palazzo. Quindi una patologia di palazzo. E poi sto a posto. Dopodiché basta. Ok. Allora, quindi proprio dolore specifico che scende lungo la gamba. Sì. Sì, è un lato back pain, including sciatic pain along the leg. Sì, è molto interessante. Let's make a little thrust. Sì, c'è la compensazione. Sì, c'è la compensazione. Sì, c'è la compensazione on the right and here pain and slack right on the left. Sì, puoi come back up. That's fine. Pain is on the left, but it will approach the right side. Sì, so, let me just compare the pelvis. The leg bone with the opposite side. That's fine. Yeah. Turn on the side, please. Benissimo. Brava, sì, sì, sì. Facciamo due cose diverse. Prima un piccolo approccio qui. I will start with the lumbar and then the pose. That's good. That's enough. Lascia cadere le gambe. Abbandonati. Brava, abbandona, abbandona, abbandona. Brava. Perfetto. E adesso, comoda, brava. Finally, it's time for the pelvis. That's good. Ok. Lascia cadere. Rilassatissima. Abbandona tutto. Brava, brava. Oh, perfetto. Vieni da questo lato. Bravissimo. Stendi bene le gambe. Brava. Relax. Fine. Let me check. Lascia cadere le gambe. Abbandonate. Bravissima. Anche l'altra. Abbandona, 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 brava. Perfetto. Lasciati cadere. Abbandonata. Abbandona tutto, abbandona tutto. Rilassa tutto. Bravissima. Ancora una, ancora una. Ok. Yes, it's stuck. Hmm, that's hard. We have to do something else. How did you do that? Come ha fatto questa cosa qua? Allora. Be plain. So. Punch in giù. Here we go. Tieni di forte, eh? Hold on. Sì, sì. As you prefer. Up to you. About the head. It's fine. Ready? Sì. Ok, we got it. Ok, that's fine. Abbiamo un po' da fare. Brava, rilassa tutto. Ok, ci siamo, ci siamo. Buono. Ok. Put down your legs and relax. Ok. Relax, no worries, no worries. Ok, last one, last one. Oh, we got it. Ok, take your time. That's fine. Ci sei? Sì. Bene. You talk about the job and we're going to do the job. Rilassa tutto, brava. Bene la prima. Bene la seconda. Bene la terza. Ci sei? Fatti bene? Sì. Ok. Una. Due. Ci siamo già. Apri un pochino la bocca e ti rilassi. Brava, comoda, comoda. Brava. Ci sei? Mm-hmm. Andiamo con calma, vai. Brava, rilassa tutto. Ancora una, ancora una. Ok. Bene. I need your collaboration now. Vieni un pochino fuori con la testa. Brava. Bravissima. Lascia di che proprio cadere. Vieni ancora più fuori con la testa. Brava. E adesso rilassati. Lascia fare tutto a me. Bravissima. Comoda, comoda. Perfetto. Brava. Ok. Lascia di cadere più rilassata che puoi. La tengo io la testa, eh. Brava. Abbandonati, abbandonati. Bravissima. Brava. Abbandona, abbandona. Ok. Ottimo. Ci sei? Torna un pochino più giù. Ci sono, ci sono. Adesso appoggia i suoi gomiti. Benissimo. Bene. Lino in your elbows. Lascia cadere solo la testa. Brava. E ti rilassi. Comoda, comoda. Abbandona proprio la testa. Rilassata. Brava. Sì, sì, sì. Perfetto. Ok. Abbandona tutto. Più rilassata se ce la fai. Abbandona. Ok, perfetto. Bravissima. Adesso braccia lungo i fianchi. Giù e ti rilassi. Hai detto, colman assistant for this approach. Let's approach this platform. Thank you, Giulia. Ok. Here we go. Se ti diamo fastidio, ci lo dici, eh. Ok. In caso di te preoccupare, just tell us. It'll be no annoying, just pleasant. Pleasant. Let's go. Ok. Once more. One moment. Turn your head by the side. Gira la testa di qua. Brava. Comoda. Bravissima. Yeah. Ok. Yeah, stop. Benissimo. Thank you. Grazie. Grazie. Ci vediamo tra poco. Bene. Torniamo a pancia in su e ci riposiamo. Sai che la sentivo bene bene? Sì. Perché quello è proprio il punto in cui... Esatto. Mamma mia. Bisogna saltarci sopra. Ma io sempre doro, ma non so com'è possibile. È possibile che convivo con questo dolore tutti i giorni? Anche quando mi sveglio, quando vado a dormire? Sì. She used to work out in a very high level. That's why it's very important the stretching afterwards. And sometimes it's very important to be careful because she got a little hernia on the lumbar. So it's important to unload the area. So sometimes twice a year we can do this treatment. The rest, some kind of stretching would be enough. Just a little tip. Solleva la testa. Just lift up your head and drop it. Ridassati. Brava. Comoda, comoda. Resta proprio ridassata. Abbandonati. Brava. Perfetto. Oh mio Dio. Come va? Non me l'aspettavo. It's okay? Sì. Come è andata? Che hai sentito? Bene, bene. Bene, bene. Liberata. Era la prima volta che sentivo. Sì, prima volta che fai questa. Questa liberazione qua. Forte, eh? Sì. Riprendi un attimo perché questa è veramente forte. Oh mio Dio. Vieni bene più dietro. Brava. Poggiati più rilassata che puoi. Abbandonatissima. E andiamo. Partiamo da questo lato con calma, eh? Brava, lasciati cadere. Abbandona la spalla. Abbandona la testa. Più rilassata che puoi. Ok. Ci sei? Sì. Ancora una, piano piano. Brava. Lascia cadere la testa. Abbandonati col corpo. Più rilassata che puoi. Resta abbandonatissima. Ok. Questa è stata importante, eh? Ok. Passiamo in piedi e ci dici come li senti. Adesso posso andare a correre. No, benissimo. Bene. Subito positivo. Mi sento più libera, più allungata. Sì. Molto più distesa a livello, diciamo, anche di postura, di rilassamento. Il dolore alla schiena, vabbè, quello diciamo che quando mi piego è sempre un po' il mio colore, sì, localizzato. Poi faremo questo piccolo esercizio di stretching adesso che ti aiuterà a levare anche la parte muscolare coinvolta. E poi è fatta. I'm going to just a slide a little, but she feels lighter, she feels much more comfortable with the low back pain. It could be, prove the, quanto per bestia mi ha migliorato? 80%? Beh, sì, sì. Sto abbastanza... 80%? 80%? 80%? Sì, è migliorato molto. Ok, 80% better. And I'm going to spend just a little bending exercise, a stretching exercise to improve even the muscles. So, everything is fine. Va bene. Let's say goodbye to our friends. 3, 2, 1. Bye bye. Ciao. Thanks for watching.